Dio castiga il mondo? Questo è il titolo di uno degli ultimi libri pubblicati dalla nostra casa editrice Fede e Cultura, a cura del professore Roberto De Mattei. L'abbiamo già ospitato qualche settimana fa sul nostro canale YouTube e nella nostra sede a Verona presso la libreria L'Isola del Tesoro il professor De Mattei che ci aveva parlato delle tematiche contenute in questo prezioso volume con la chiarezza e anche con l'ortodossia che contraddistinguono i suoi interventi, tanto che molti di voi ci hanno anche ringraziato per aver organizzato quell'evento. Oggi siamo di nuovo qui ancora una volta collegati, anche se stavolta solo virtualmente, con il professor De Mattei. Buonasera professore. Buonasera, grazie dell'invito. E buonasera anche al professor Giovanni Zenone, direttore della nostra casa editrice Fede e Cultura, che come sempre ci accompagna in questi incontri con i nostri autori. Buonasera professor Zenone. Buonasera Gaetano, buonasera Roberto, grazie di essere con noi. Grazie a te per l'invito. Ecco, ricordo a tutti voi che sul nostro sito www.fedecultura.com oppure qui nella descrizione di questo video potete trovare il link dove acquistare il libro, questa perla di autentica dottrina cattolica, questo, oserei dire, compendio di Teodicea. Per chi dovesse chiederselo, la Teodicea non è una parolaccia, è quella branca della teologia che si interroga circa il rapporto, l'apparente contraddizione tra l'esistenza di un Dio infinitamente buono e la presenza del male nel mondo. Vi ricordo anche che questa è una diretta, quindi siete invitati a interagire con il professor De Mattei, con il professor Zenone, se vorrete anche con me, scrivendo in chat le vostre domande, le vostre riflessioni, le vostre opinioni che saranno lette e commentate in diretta. Vorrei leggere infine alcune brevi parole per presentarvi il nostro ospite. Il professor Roberto De Mattei è uno storico che ha insegnato nelle università di Roma alla Sapienza, Cassino e all'Europea di Roma. Tra il 2003 e il 2011 è stato, per ben due mandati, vicepresidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. È presidente della fondazione Lepanto e direttore della rivista Radici Cristiane, nonché della Agenzia di Informazioni Corrispondenza Romana. Ha collaborato con numerose testate giornalistiche, quali L'Osservatore Romano, Libero, Il Giornale d'Italia, Il Tempo e Il Foglio. Autore di oltre 30 libri tradotte in varie lingue, per fede e cultura ha pubblicato anche nel 2013 Vicario di Cristo, una riflessione, come suggerisce il titolo, sulla figura del pontefice romano. Professor Zeno, se vuole dare qualche parola di introduzione prima di metterci nel vivo? Sì, l'introduzione è che questo tema dei castighi di Dio, che se Dio castiga il mondo o se è solamente misericordia, è un tema che mi è molto caro perché soprattutto da dieci anni a questa parte, cioè dal pontificato di Papa Francesco, si direbbe che ci sia questa svolta epocale per la quale non si debba più parlare di un Dio capace di castigare il mondo, un Dio di giustizia, ma solamente un Dio di misericordia. Altrimenti non saremmo più ascoltati come cristiani. Io sono convinto che questa sia una visione erronea della fede, una visione erronea di Dio e sono fiero di aver pubblicato questo libro che è valso anche a suo tempo, quando abbiamo pubblicato la prima versione molto ridotta, l'estromissione di Roberto De Mattei da Radio Maria, che ormai di questi tempi è una medaglia al valore militare cattolico, direi. Ecco, c'è anche da dire, cosa importante che mi sono dimenticato, che il libro è stato curato dal professor De Mattei, ma presenta al suo interno contributi di diversi illustri autori. Ci sono infatti saggi a firma di padre Serafino Lanzetta, di monsignor Antonio Livi, del professor Corradonierre, di padre Giovanni Cavalcoli e della dottoressa Cristina Siccardi. E direi, professore, di partire subito con la prima domanda che è un po' diciamo di rito con i nostri autori. Quali sono le circostanze che hanno portato alla nascita di questo libro? Le circostanze che hanno portato alla nascita del libro sono state quegli eventi, in particolare, qualcuno lo ricorderà, uno tsunami che devastò le coste del Giappone. Mi sembra che l'anno fosse il 2011. Io feci un commento a Radio Maria, feci un commento di carattere personale, privato, non parlai come in quel momento ero vicepresidente del CNR, ma non parlai certamente in questa funzione. E però il mio intervento provocò una serie di polemiche su tutti i giornali, perché si diceva appunto che il vicepresidente del CNR aveva osato evocare questa idea di un Dio che castiga l'idea dei castigli. E quindi subì numerosissimi attacchi, ma anche molti interventi a mio favore. Alcuni di questi sono stati pubblicati, lei li ha ricordati, padre Ranzetta, padre Cavalcoli, Muzione Livi, la dottoressa Siccardi, che vollero ribadire quella che è la dottrina della Chiesa su questo punto. E devo dire che padre Livio, direttore di Radio Maria, mi diede la possibilità e in una successiva trasmissione di rispondere alle critiche che avevo ricevuto. Quindi questo è stato per me un'occasione di approfondire un tema complesso, un tema delicato e quindi siamo così così diciamo e abbiamo stampato questo libro nelle due fasi, in due tappe, qualche anno fa la prima edizione più ridotta e adesso questa nuova edizione è che è arricchita di una serie di interventi successivi alla pandemia del 2020 e del 2021 e a tutte diciamo le ultime vicende storiche da appunto dal coronavirus fino alla guerra russo-ucraina. Sì, allora, quella è stata l'occasione, poi c'è stata tutta quella serie di eventi che hanno portato a un po' qualche scombussolamento, ma io credo davvero che tutto questo sia stato provvidenziale perché ha portato a fare una riflessione che purtroppo, devo dire, oggi si fa molto fatica a sentire all'interno della Chiesa. La prossima domanda quindi te la vorrei porre io ed è proprio su questo problema, del perché oggi i teologi, perché oggi i preti, perché oggi i cardinali, i vescovi, addirittura anche il Papa hanno paura di Dio, di dire che Dio castiga il mondo, Roberto? È un discorso che viene da lontano. Si potrebbe in fondo risalire a questo episodio che a mio avviso è importante, come forse qualcuno di voi, degli ascoltatori saprà, la Madonna a Fatima, rivolgendosi a sua Lucia, rivelandogli il cosiddetto terzo segreto, le aveva detto che però avrebbe dovuto consegnarlo al Papa, ma che il momento per pubblicarlo sarebbe stato il 1960, la Madonna diede questa data del 1960 e ci si può chiedere ma perché? Perché proprio il terzo segreto avrebbe dovuto essere rivelato in quel momento? Dobbiamo ricordare che quel momento, gli inizi degli anni 60, era l'anno di un grande ottimismo all'interno della società e della Chiesa stessa, era morto Pio XII, era salito al trono pontificio Giovanni XXIII, Giovanni XXIII aveva indetto il Concilio Vaticano II e però il terzo segreto di Fatima che è stato poi rivelato solo nell'anno 2000, ma che il Papa Giovanni XXIII aveva letto nel 1960 e evocava delle immagini tragiche con la figura di un angelo che chiamava il mondo a penitenza e con tutto il castigo di Fatima, parlava di un castigo che incombeva sull'umanità se non si fosse emendata, se non si fosse convertita. Perché il messaggio di Fatima non fu rivelato, non fu ascoltato? Proprio perché questa idea di un castigo, l'idea comunque di una prospettiva drammatica all'orizzonte della storia dell'umanità cozzava contro quel mito, quell'utopia del progresso che si era diffusa negli anni 60 e che era rappresentata proprio dall'immagine stesso del Papa Buono Giovanni XXIII, ma anche di John Fitzgerald Kennedy, di Nikita Khrushchev, di quelli che erano i grandi protagonisti politici dell'epoca. E lo stesso Vaticano II si aprì in un clima di grande ottimismo con l'idea che si sarebbe aperta una nuova primavera della Chiesa, una epoca di progresso, di pace, di benessere per l'umanità. E quindi l'idea di castigo doveva essere rimossa nel Concilio Vaticano II, praticamente non si parlò minimamente non solo del comunismo, ma neanche dell'inferno. I novissimi e l'idea di inferno in particolare furono completamente rimossi dalla pastorale cattolica a partire da quegli anni. Quindi, da allora sono passati i 60 anni, diciamo che lentamente, progressivamente, l'idea di un Dio giusto, di un Dio che remunera il comportamento dell'uomo premiandolo o castigandolo, si è sempre più dissolta, si è sempre più svaporata, mentre invece si è fatta strada l'immagine di un Dio solamente buono, solamente misericordioso, ma non giusto. Quindi, diciamo, la questione è una questione che non risale solo al pontificato di Papa Francesco, ma che a mio parere viene da lontano, viene da quello che potremmo chiamare l'ottimismo degli anni, degli anni sessanta. Certo, è importante rimarcare questo che le ha detto, professore. E stupisce, in effetti, vedere come oggi nella Chiesa si tende a negare questa verità di fede che è al centro di questo libro che le ha curato, appunto, Dio è sì Dio di misericordia, ma anche Dio di giustizia, che talvolta esige castighi. Se vogliamo è una verità di fede che evidentemente scaturisce anzitutto dalla Sacra Scrittura, e pensiamo non solo dagli episodi veterotestamentari, la cacciata di Adamo e Deva, il diluvio universale, la torre di Babele, Sodoma e Gomorra, ma anche quelli nuotestamentari. Pensiamo all'episodio famoso di Anania e Saffira che muoiono dopo aver tentato di ingannare San Pietro e nella sua persona l'intera Chiesa di Cristo. Lei ha citato Adamo e Deva, a me mi sembra un episodio molto significativo, perché se ci si riflette, la storia dell'umanità si apre in fondo con un grande castigo, un castigo per una trasgressione, per una violazione della legge, per una violazione della volontà di Dio da parte dei nostri primogenitori, dei primi uomini, Adamo e Deva. Castigo terribile se ci si pensa, perché in seguito alla loro cacciata dal paradiso terrestre è entrata nell'umanità la morte, la sofferenza, ogni forma di dolore e di patimento, ma nello stesso tempo a questa giustizia severa e implacabile di Dio corrisponde una immensa misericordia che supera, che sovrasta questo atto di giustizia, che è la decisione nella mente divina della redenzione dell'umanità, dell'incarnazione del verbo, di un Dio che ama con tale immensità l'uomo da scendere in terra, incarnarsi, soffrire e morire per redimerlo. Ecco, quindi noi vediamo come uno stesso Dio può essere ed è sempre allo stesso tempo infinitamente giusto, ma infinitamente misericordioso. Non lo si può amputare né della sua giustizia né della sua misericordia. Certo. Mi viene questa riflessione da fare, professore. Quando un tempo la società era cristiana, si facevano le rogazioni, no? Cioè queste processioni per supplicare e ottenere da Dio protezione dagli eventi avversi e si recitavano una serie di, si recitava una serie di litanie molto dense anche a livello dottrinale, non solo a livello devozionale. E una in particolare, che lei cita anche nel suo libro, recitava così, a bello peste et fame libera nos domine, cioè dalla guerra, dalla peste e dalla fame liberaci o Signore. E ogni volta che sento questa litania mi vengono in mente i quattro cavalieri dell'Apocalisse che rappresentano proprio i mezzi con cui il Signore castiga il mondo. E tre di questi cavalieri sono proprio la guerra, il cavallo rosso, la fame, il cavallo nero e la morte, l'ade, il cavallo verdastro, che secondo alcuni esegeti indica proprio la pestilenza. E mi viene da farle dunque questa domanda. Come può la guerra essere al contempo un peccato? Evidentemente se la guerra è ingiusta, perché sappiamo che esiste, no? San Agostino, esiste anche una guerra giusta, la guerra di difesa da un cattivo aggressore. Come può essere al contempo un peccato e un castigo? Innanzitutto è molto giusto questo ricordo che lei ha fatto di questi tre flagelli che evocano le erogazioni. Bisogna dire che si tratta di tre castighi collettivi, perché dobbiamo sempre ricordare che esistono castighi individuali, ma castighi collettivi, castighi pubblici, che quindi si riferiscono non ai peccati di singoli uomini, ma si riferiscono ai peccati di una società nel suo complesso. E il peccato di una società nel suo complesso viene colpito da castighi, da sciagure pubbliche, come sono quelle che lei ha ricordato. Perché lei giustamente osserva la guerra che in fondo è o può essere anche un peccato è allo stesso tempo un castigo, ma dobbiamo sempre ricordare che in ogni modo Dio castiga per ciò per cui si pecca e che ogni peccato è in se stesso è un castigo. Per fare un altro esempio concreto, in questo momento noi ci troviamo in una situazione di grave confusione, di disorientamento dottrinale, di caos morale, che è allo stesso tempo un peccato degli uomini, partire dalle gerarchie ecclesiastiche fino agli ultimi fedeli che hanno smarrito il senso del bene e del male, ma che allo stesso tempo per questo smarrimento del senso del senso del bene e del male, che è un peccato, soffrono a causa delle conseguenze che ciò comporta. Perché il peccato dietro un'apparenza di immediata soddisfazione è sempre comunque in se stesso causa di sofferenze singole o pubbliche. E questo è certamente il caso anche delle guerre come di altre sciagure. Certo potremmo paragonare la guerra per esempio anche a una sciagure in cui è totalmente assente la volontà dell'uomo che è il terremoto e in questo caso Dio per castigare si serve delle forze della natura potremmo dire. Nel caso della guerra per castigare Dio si serve degli uomini stessi e per questo che nel messaggio di Fatima ci sono queste parole. La Russia diffonderà i suoi errori nel mondo provocando guerre e persecuzioni alla Chiesa al Santo Padre, quindi la Russia poi si convertirà eccetera. Però noi vediamo che un popolo è lo strumento è lo strumento del castigo. Quindi Dio si serve di uomini o di popoli per castigare altri uomini ed altri popoli. Io vorrei fare anche un'altra domanda. Riprendo però quello che tu dicevi che Dio si può servire anche di uomini o di popoli per castigare l'umanità ma siccome Dio fa anche non esercita solamente la funzione del castigo ma anche quello della cura devo dire che anche guardando la Sacra Scrittura ad esempio Dio si serve di Dario in realtà per un bene nei confronti del popolo di Israele. Quindi a quelli che pensano che Dio sia solo il castigamatti vorrei ricordare che Dio anche usa innumerevoli mezzi e forse più ancora che i castighi per convertire il cuore dell'uomo per farlo inclinare verso il bene, verso l'amore di Dio e del prossimo. E lo fa anche attraverso la storia, attraverso effettivamente anche uomini, anche popoli, anche culture, civiltà e quindi non dobbiamo avere una visione distorta, solo negativa di Dio. Assolutamente, è giustissimo quello che dici ma perché dobbiamo tenere presente questo che tutto ciò che accade, tutto, dal più piccolo al più grande nella storia, è ordinato da Dio alla sua maggior gloria e al bene dell'umanità. Quindi non accade nulla di ciò che accade, è privo di significato e Dio tutto riconduce al bene. Ciò però non significa che quando in ciò che accade è presente la volontà degli uomini, perché appunto abbiamo fatto prima l'esempio del terremoto o della guerra, nel caso del terremoto noi sappiamo che se accade qualcosa che è indipendente dalla volontà di qualsiasi uomo, comunque c'è un senso a tutto questo. Questo è stato permesso da Dio o Dio ha permesso per le forze della natura e si scatenassero per ottenere un maggior bene. Nel caso della guerra, in cui invece interviene la volontà degli uomini, noi possiamo dire lo stesso, nel senso che anche quella rivoluzione, quella guerra è ordinata da Dio a un bene, ma il fatto che si è ordinata da Dio a un bene non significa che coloro che hanno provocato quella guerra o quella rivoluzione abbiano fatto del bene, perché anche il demonio è uno strumento di Dio nell'operare il bene, perché se ci fosse qualche cosa che potesse sfuggire a Dio, all'ordinamento di Dio al bene, Dio sarebbe in qualche modo, non sarebbe il signore e il padrone di tutto l'universo, però esistono poi le responsabilità degli uomini, per cui i barbari per esempio nel terzo, quarto, quinto secolo, che in base all'impero romano, furono uno strumento per castigare i peccati, la decadenza, la corruzione dell'impero romano, ciò non significa che i barbari fossero tra virgolette i buoni e i romani diciamo puniti dal castigo fossero i cattivi, questo dobbiamo tenerlo presente perché altrimenti ci sarebbe il rischio di dire che siccome le persecuzioni islamiche contro i cristiani provocano dei martiri e quindi in questo senso Dio le permette per ordinarle al bene, allora benvenga che succedono, no? Chiaramente il discorso, cioè Dio ordina al bene il male, ma gli autori del male comunque contraddicono la legge diciamo naturale e divina e sono quindi gravemente responsabili. In effetti uno di quei ritornelli che purtroppo sentiamo in questi giorni, che contraddice platealmente quello che stai dicendo purtroppo, è quando si parla di Giuda come nostro fratello Giuda e via di seguito. Questo penso sia uno di quegli equivoci gravissimi. Esatto, buon esempio. Mi sembra addirittura che sia quasi quasi di stampo massonico perché nella massoneria si parla proprio del fare il male col fine di ottenere un bene, ordine abcao o robe di questo genere, ma è una cosa assolutamente inaccettabile da un punto di vista cattolico ma anche semplicemente filosofico. Proprio così. Vorrei però passare a una domanda perché una delle cose che scandalizza spesso tante persone è la sofferenza degli innocenti, dei bambini e via di seguito. Ma che cos'è la sofferenza vicaria nella nostra dottrina cattolica? Ed è possibile assumerla volontariamente o viene assegnata così a caso o per un'imperscrutabile volontà divina? Sono vere entrambe le cose. Dobbiamo partire da un presupposto che nessuno agli occhi di Dio può dirsi veramente innocente perché tutti nasciamo con il peccato originale e forse sì al momento del battesimo quel bambino è assolutamente innocente. Ma quando parliamo diciamo di innocenza dei bambini, certamente noi dal punto di vista emotivo, diciamo così sentimentale, ci può colpire l'immagine del bambino che viene colpito da una sciagura che sia, vediamo immagini di bambini uccisi nella guerra recente russo-ucraina oppure le immagini dei bambini, dei piccoli migranti travolti dalle onde. Ma gli innocenti sotto questo aspetto possono essere non necessariamente bambini, ma possono essere anche uomini e donne di diverse età, innocenti non tanto diciamo appunto agli occhi di Dio perché comunque macchiati come uomini diciamo dal peccato originale, dai peccati attuali, ma innocenti in quanto rispetto ad altri sembra in un certo senso sproporzionata la pena fisica che essi subiscono rispetto diciamo a quelle che sono le loro colpe relativamente ad altri uomini che magari hanno colpe molto più gravi, molto maggiori, ma non subiscono questi dolori. Però a questo punto noi dobbiamo anche ricordare un'altra cosa, cioè che la peggiore sofferenza fisica nel mondo e la peggiore sofferenza naturalmente è la morte, quindi immaginiamo la morte di un bambino, è comunque in se stessa molto meno grave di un peccato, cioè di una violazione dell'ordine morale. E quindi immaginiamo ad esempio che quel bambino che muore sotto le macerie e che però essendo stato battezzato vada subito in paradiso o non essendo stato battezzato vada all'inferno, ma comunque diciamo non vada all'inferno perché non ha diciamo peccati gravi diciamo di cui risponde di fronte a Dio. Questo bambino diciamo così crescendo dopo magari 10, 15, 20 anni potrebbe perdersi, potrebbe macchiarsi dei peccati più gravi e meritare invece la dannazione eterna e quindi talvolta Dio diciamo sottrae come un atto di misericordia alle pene eterne dei bambini o dei giovani infliggendo loro la peggiore delle pene fisiche che è la morte per risparmiare però una ben più grande grave pena morale e spirituale che è quella dell'inferno. Naturalmente stiamo parlando di disegni misteriosi di Dio che tutto conosce ma sappiamo che essendo Dio infinitamente giusto e infinitamente misericordioso anche diciamo nel dobbiamo un poco capovolgere la prospettiva cioè non chiederci ma come mai Dio che è buono permette che questo bambino muoia ma lasciare la prospettiva chiedendosi ma se Dio che è immensamente buono ha permesso che questo bambino sia morto evidentemente è stato per il bene di questa per il bene di questa anima perché altrimenti se noi pensassimo che che Dio in qualche modo possa essere stato anche in un solo caso in giusto beh con questo pensiero è l'idea stessa di Dio che crolla perché Dio per definizione è l'essere perfettissimo è l'essere infinitamente buono e infinitamente giusto quindi non è neppure immaginabile che nulla possa accadere da lui permesso che in qualche modo possa essere una sia pur minima infinitesimale violazione della 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 del bene di qualche diciamo di qualsiasi singola di qualsiasi singola anima quindi dobbiamo partire da questo ecco che con con certezza che tutto ciò che accade voluto da Dio per il bene di chi subisce il dolore o la sofferenza e comunque la morte aspetta ognuno di noi prima o poi e così come non c'è molta differenza tra morire a 60 o a 70 o 80 anni non ce n'è neanche tanta da morire a un anno o a 50 se questo comunque eh se questa chiamiamo la morte anticipata eh deve significare come certamente significa se accade un maggior bene di quell'anima professore ci sono alcuni commenti interessanti che vorrei leggere e vorrei chiederle un commento ecco il primo è dell'amica concita concita carruba spero di pronunciare bene eh che fa una riflessione molto molto interessante dice non si parla più del castigo di Dio forse anche perché non si parla più del timor di Dio eh dono dello spirito uno dei doni dello spirito santo che si lega alla alla giustizia divina non come castigo nel senso umano del mondo ma come castigo misericordioso ma è vero è molto giusto noi ricordiamo no che il timore di Dio è l'inizio della sapienza ma c'è anche una una legge psicologica umana naturale che ce lo ricorda eh noi sappiamo che se non ci fossero delle leggi a cui corrisponde una sanzione eh immaginiamo che eh per esempio il passaggio dei semafori o il qualsiasi altra cosa anche di un qualsiasi codice anche solo stradale non fosse come dire seguito da una qualche sanzione e questo produrrebbe nel caos per questa inclinazione ehm al alla al male quindi alla trasgressione che esiste naturalmente in ogni uomo che è frenata solo dal timore 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 dei dei genitori rispetto che si accompagna al grande amore che i bambini hanno verso di loro però il il genitore saggio diciamo è giusto accompagna il suo affetto il suo amore anche anche con dei rimproveri con delle piccole diciamo con delle piccole punizioni ma poi via via timore timore della sanzione sociale e poi e poi poi timore e timore di Dio certamente e il timore di Dio ribadisco è è l'inizio della sapienza e forse è proprio da qui che noi oggi dovremmo ripartire ecco c'è un altro commento eh interessante ehm di Lione di Sernia che da secondo me da collegare anche a una al commento di un utente che si chiama Donna Rosa dice un padre umano forse non mette in castigo un un figliolo disobbediente allora tanto più il padre celeste per quale motivo non dovrebbe castigare le sue creature e Donna Rosa scrive oggi non si può neanche più castigare il figlio indisciplinato perché chiamano i servizi i servizi sociali almeno in Belgio è così e in effetti mi verrebbe da fare questa questa glossa questo commento forse come dire la demonizzazione sociale del del sano castigo che il genitore impartisce deve impartire sottolineo deve impartire in determinati circostanti condizioni al figlio forse proprio anche come dire effetto e speculare a questa erronea concezione di Dio o in senso più più laico diciamo così una cattiva concezione del bene è assolutamente giusto anche perché noi dobbiamo ricordare che l'autorità paterna è un riflesso di quella divina il ruolo dei genitori nell'educazione dei figli è un ruolo se vogliamo di di supplenza per 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 aiutare lo sviluppo delle anime per portarle a Dio è assolutamente assolutamente giusto che questa educazione dei genitori sia accompagnata da da premi e da punizioni però accade naturalmente che questo possa venire in modo in maniera imperfetta perché ci possono essere da parte dei genitori del padre della madre eh delle ehm o delle esagerate punizioni o una eccessiva condiscendenza eh degli scatti di ira delle 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 umane diciamo imperfezioni mentre dice quello che noi sappiamo è che eh è che Dio agisce sempre nei nostri confronti quando ehm quando ci 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 premia e quando ci castiga in maniera in maniera infallibilmente 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 perfetta e quindi noi possiamo abbandonarci dolcemente a questa eh a questa paternità divina che perché siamo siamo sicuri che potremmo averne solo 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 del bene ecco eh vorrei leggere altri due commenti che secondo me sono possiamo possiamo leggere diciamo collegati il primo è questo qui di Mauro Mazzoldi che scrive la guerra è un bene per un mondo macchiato dal peccato originale visto che 78 anni di pace tra virgolette pace hanno portato più morti per aborto libero che per guerre è un commento che secondo me potremmo leggere insieme a questo di Andrea Colombo il quale scrive la guerra è un castigo sui generis perché è anche una benedizione che serve a purificare l'umanità vedi Sant'Agostino cosa scrive nella città di Dio ecco perché il vero cristiano non può essere pacifista secondo me professore queste questi commenti c'è della verità però forse bisogna anche sgombrare il campo dai quivoci perché il commento di Colombo mi ha fatto venire in mente quello che scrivevano i futuristi se non ricordo male all'inizio del secolo scorso la guerra igiene del mondo e però è che non erano i sant'Agostino dice che tutti vogliono tutti vogliono la pace anche coloro che fanno la guerra quindi noi possiamo dire che è un bene in sé in se stesso solo la pace la quale pace però è la tranquillità nell'ordine la tranquillità nell'ordine divino e naturale la guerra in sé stessa non è un bene diciamo è un male ma è un male talvolta diciamo necessario per per produrre per restaurare o recuperare quella 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 pace quella pace quella pace perduta comunque la dottrina della chiesa su questo punto è chiara chiara non ammette nessuna forma di pacifismo e ammette la lisceità della guerra quando questa guerra è giusta e questa guerra è giusta quando quando si tratta di una guerra o difensiva o anche di una guerra ehm offensiva ma che mira a recuperare a restaurare una eh una qualche forma di ingiustizia eh subita naturalmente è un discorso un discorso delicato che va applicato con prudenza di volta in volta ma ecco ecco bisogna sgombrare effettivamente il campo da una parte da ogni forma di pacifismo e e e e dall'altra parte dal eh dall'idea diciamo che la guerra è in ehm se stessa è qualche misura indicabile no? eh diciamo 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 che Dio ehm si può servire anche di eh di guerre o di conflagrazioni diciamo universale perché comunque eh è un po' come se se vogliamo se se pensiamo a allo stessa eh allo stesso sacrificio di nostro di nostro signore eh beh diciamo non c'è stato eh peccato maggiore nella storia del decidio no? L'uccisione eh di 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 dell'uomo Dio ma da questo da questo da questo da questo atto terribile è scaturito diciamo il bene più grande che l'umanità possa stessa ricevere cioè la sua la sua redenzione però insisto su questo fatto è perché si ritorna al discorso di Giuda eh e coloro eh i colpevoli del colpevoli del del decidio eh si sono assunti una immensa responsabilità di fronte a Dio e e non possono essere giustificati in quanto tra virgolette strumenti strumenti del bene. C'è una domanda interessante di Andrea Sandri che vorrei leggere dice giustamente si pone questa domanda chi dice autoritativamente per tutta l'umanità che una guerra è giusta chi potrebbe dirlo? Ma eh diciamo eh l'unica voce che abbia una eh autorità eh morale per dirlo è la voce della Chiesa. Certamente non la Chiesa di oggi né la situazione di oggi però ricordiamoci che nella società cristiana che la storia ha conosciuto almeno eh nei cinque grandi secoli del Medioevo ma anche oltre io direi fino alla pace di Vesfalia del 1648 eh il Papa era riconosciuto come eh giudice e arbitro supremo di eh quello che anche di di ciò che poteva essere una guerra eh giusta o ingiusta eh che poi che poi diciamo lo 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 facesse se che poi diciamo i papi che si sono succeduti l'abbiano fatto sempre in maniera esemplare che non si siano a loro volta eh quindi non abbiano a loro volta commessi di commesso degli errori è un altro discorso perché non è un punto in cui la Chiesa esercita un un magistero infallibile però non c'è dubbio che non che il problema che oggi soffriamo è è questo problema che eh beh diciamo così il professor Sandri è uno studioso e quindi ehm capisce ciò di cui parlo che eh a partire dalla 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 pace di Vesfalia si è è creata una 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 situazione di eh di eh autoreferenza degli stati sovrani per cui non c'è più un'autorità che possa dire eh questa guerra è giusta o ingiusta perché la guerra diventa giusta o ingiusta e a seconda a seconda del soggetto che non superiore ma non eh cioè che non riconosce cioè che non riconosce un superiore quindi immaginiamo la guerra in questo momento russa o ucraina può essere eh giusta per per i russi o giusta diciamo per l'Ucraina a seconda degli interessi geopolitici delle rispettive diciamo nazioni o più in generale insomma il discorso si può allargare e perché non non esiste come dire un supremo criterio trascendente eh il fallimento di questa visione chiamiamola tra virgolette ehm geopolitica sovranista era emerso già nell'ottocento e agli inizi del novecento ed è sorta così con la mh all'epoca della società delle nazioni e poi dell'ONU l'idea di fare fronte come dire a questa incapacità delle nazioni ad avere un criterio diciamo supremo di regolamento attraverso questi organismi eh come appunto la società delle nazioni l'ONU o qualsiasi altro però puramente secolari puramente immanenti che si arrogavano un po' il ruolo che avrebbe dovuto avere la chiesa e e quindi e diciamo questa visione chiamiamola globalista in per cui per cui in ultima analisi è è un ente un ente super nazionale che che stabilisce quello che è giusto o ingiusto naturalmente in maniera assolutamente eh inadeguata e inadatta quindi ehm se non si ritorna a una visione eh ehm metapolitica eh che riconosce eh nella chiesa cattolica la unica cattedra di 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 verità eh sul campo non solo nel campo della fede ma anche nel campo della morale e anche nel campo della della morale pubblica della 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 politica e non 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 si riuscirà mai a uscire da questa da questa situazione. Oggi noi eh siamo immersi nel caos anche a causa di questo. vorrei tornare professore ancora eh alle erogazioni perché ricordo che c'è un'altra bellissima invocazione che a me ha sempre mi ha sempre colpito che recita a morte improvvisa libera nos domine. Dalla morte improvvisa liberaci signore. Ogni volta che sento questa preghiera che ascolto questa preghiera mi viene forse eh in maniera eh inopportuna da sorridere ma perché? perché penso quanto è diverso il pensiero del mondo da quello dell'autentico cristiano. Tantissime persone dicono spero di morire nel sonno senza soffrire una morte rapida. La chiesa invece insegna a sperare proprio il contrario no? Sembra quasi dire eh speriamo che che ci sia una malattia più o meno lunga prima della morte. che addirittura la malattia è una grazia del cielo. Un modo per prepararsi per capire che la resa dei conti diciamo così con il signore è prossimo. Allora mi devo dire che qui la parola castigo ciò che rende casti no puri in relazione al male fisico assume addirittura un significato commovente sublime. Cosa ne pensa professore? No sono naturalmente sono d'accordo con lei e diciamo prima ancora del discorso sulla morte improvvisa o non improvvisa è il problema di fondo è il problema della morte in grazia di Dio. Cioè quello che importa è è è morire in grazia di Dio. Allora è chiaro che dal punto di vista del cattolico chi desidera come come è giusto con tutte le sue forze di morire in grazia di Dio e preferisce preferisce essere al corrente diciamo del fatto diciamo che di quando morrà magari non due anni prima ma magari anche una settimana prima quindici giorni prima sei mesi prima quello che sia per avere la possibilità di prepararsi di prepararsi alla morte con una confessione generale ricevendo i sacramenti nel miglior modo possibile. Viceversa ci sono diciamo persone che vivono immerse nel peccato e che vengono come dire rapiti dalla vita diciamo così alla morte e in maniera senza avere la possibilità di prepararsi e quindi passano non solo dalla vita alla morte ma passano purtroppo diciamo così alla morte eterna e quindi sotto questo aspetto è evidente che che è giusta la diciamo la l'arrogazione che dice la morte subitanea libera la nostra. Ciò non toglie che ci sono stati molti santi che sono morti anche in maniera improvvisa cioè non è che il fatto di morire in maniera improvvisa sia un segno di riprovazione è un segno di riprovazione per la persona che non vive in grazia di Dio cioè se una persona non vive in grazia di Dio e muore in maniera improvvisa è una brutta cosa è un brutto segno però io conosco anche dei santi sacerdoti che sono morti alla vigilia della celebrazione della messa o appena celebrata la messa in maniera improvvisa ed erano persone però in grazia di Dio per cui questa morte anche se vogliamo improvvisa nel loro caso è stata non un segno di riprovazione ma un segno di benedizione ecco quindi diciamo che non va preso in senso assoluto certamente se mi dovessero chiedere io direi ma io preferirei saperlo saperlo prima proprio per potermi preparare diciamo a questo passo insomma perché il discorso di fondo è questo essere sempre in grazia di Dio vorrei fare un piccolo intervento per avere anche un tuo giudizio Roberto anche alla luce della domanda che aveva fatto prima Mauro Mazzoldi quando ha detto 78 anni di cosiddetta pace hanno portato più morti per aborto libero che per guerre il vero problema è quello del male ma in un mondo che ha perso la nozione di Dio e ha perso la fede e purtroppo dobbiamo dirlo in una chiesa che ha perso la nozione di Dio e ha perso la fede si sono perse le coordinate mi sembra per capire che cos'è il vero male è il male morale non è il male fisico non sono i disastri di seguito e per capire quindi che cos'è il castigo di Dio cioè lo strumento attraverso il quale il buon Dio fa di tutto per salvare l'uomo e l'umanità un pochino come scandalizzarsi perché il medico incide una pancia che ha bisogno di essere incisa senza capire che senza quell'incisione non ci potrebbe essere la guarigione dal male che è la malattia purtroppo si è perso proprio questa nozione che c'è il male che è il male morale e tutto quello che viene dopo è o prodotto dall'uomo attraverso il suo male morale o una conseguenza del male morale e questo deriva anche dalla perdita del senso del peccato originale che è scomparso anche quello della predicazione e dalla riflessione anche non solamente protestante ma anche cattolica se non cattolica allora perso quel la nozione di peccato originale non si capisce più cosa serva il castigo cosa serva la punizione come oggi che non si capisce più perché i genitori dovrebbero punire i genitori i propri figli perché dovrebbero castigarli quando ne hanno bisogno e addirittura si arriva a questo abominio dello stato che entrando a gamba tesa in rapporti dai quali dovrebbe tenersi ben lontano porta via i figli ai genitori che hanno usato metodi che sono i metodi di sempre nell'educazione nella trasmissione non solamente della fede ma anche della conoscenza umana allora credo che il problema sia a monte cioè un problema di fede nel momento che la chiesa tutta la chiesa evidentemente ma una parte considerevole ha smesso di predicare l'autentica fede si è persa la capacità di capire l'agire di dio e anche la giustizia di dio e si proietta su dio una visione negativa di delle del padre padrone violento e ubriacone che però è un errore madornale attribuire al buon dio e il male morale in particolare mauro vazzotti diceva ha prodotto più male la pace che la guerra vale a dire ha prodotto più morti innocenti perché il bimbo in grembo alla madre è un è un innocente che la guerra dove gli innocenti ce ne sono pochi perché tutti ma anche chi combatte dalla parte giusta è pur sempre un uomo carico delle sue errori delle sue i suoi difetti dei suoi peccati e quindi davvero purtroppo io mi rammarico che questo non non si capisca più nemmeno dentro alla chiesa ma cosa possiamo fare noi allora per per cambiare queste cose sia dentro la chiesa che poi anche per far conoscere al mondo l'amore di dio che passa anche attraverso i suoi castigli detto bene è un problema di fede un tempo anche proprio nella educazione dei bambini si insegnava era l'insegnamento che dava per esempio pianca di castiglia figlio san luigi che è un peccato e peggio è più grave della morte noi potremmo dire che che lo scoppio di una bomba nucleare su su un cielo qualche cielo di europa è meno grave di un peccato peccato che grave che venga che venga commesso anche di un qualsiasi peccato cioè della trasgressione della legge divina proprio per la sproporzione che esiste tra i mali fisici e mali morali e questo che che la fede diciamo ci insegna ma in questo po siccome tu hai giustamente ricordato anche il nostro ascoltatore a mazzoldi ha ricordato questo questo dramma di di per quanto riguarda l'italia ad esempio dal 1978 di una legge dell'aborto che ha fatto che ha fatto un numero spaventoso di vittime ma quello diciamo il vero dramma diciamo della legge dell'aborto non è tanto il fatto che siano stati uccisi centinaia di migliaia di diciamo di bambini o milioni diciamo di bambini e nel senso che che dei piccoli innocenti hanno hanno perso la vita e che cioè che sia stato versato il sangue di numero così grande di vittime innocenti ma molto più grave di questo cioè della morte di queste vittime innocenti e diciamo il peccato commesso da coloro madri i padri medici tutti coloro diciamo che hanno cooperato che si sono macchiati di questo delitto perché qua e ci sono due aspetti da considerare e diciamo il la vittima dell'omicidio e l'omicida e la la colpa del dell'omicida è infinitamente la colpa dell'omicida intesa come la trasgressione della legge divina e naturale commessa da chi con diversi gradi di consapevolezza ma comunque da chi pratica l'aborto è enormemente diciamo più grave come colpa morale del male fisico di chi questo aborto lo subisce come vittima innocente quindi noi dovremmo piangere non solo non tanto sul sangue diciamo dei bambini sacrificati quanto sulle sulle responsabilità di chi ha commesso questo sacrificio perché se questi padri queste materi non 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 si pentono e questo peccato continua a gravare sulla loro coscienza purtroppo che li aspetta li aspetta una pena una pena eterna ecco questo direi che il vero dramma la la indifferenza che anche che rispetto al tema dell'aborto e di tanti altri peccati si è si è creata cioè il vero dramma è la violazione è il peccato cioè la violazione la trasgressione dell'ordine naturale e divino l'offesa a dio prima ancora che diciamo l'offesa agli uomini la violenza esercitata e sotto questo aspetto ha ragione chi dice che non è tanto importante difendere il diritto del bambino innocente quanto difendere il dovere che sia di rispettare la legge divina e naturale questa legge oggi viene violata ed è questo che chiama il castigo e le responsabilità delle autorità ecclesiastiche sono gravissime proprio perché dovrebbero essere loro diciamo le prime a ricordare l'esistenza di questa legge e a condannare coloro che coloro che la violano e vorrei ricordare che madre teresa di calcutta se non ricordo male all'assemblea dell'onu invitata a parlare disse con grande forza che non ci può essere pace fin tanto che si commette l'aborto l'aborto invece che diminuire viene propagandato viene pubblicizzato e agevolato sempre più e quindi è inutile che i miscredenti gli atei i laicisti anche nostrani si lamentino se poi tante brutte cose capitano quando succede così scusami sì ma a questo proposito ti aggiungo che che a suor faustina kowalska fu rivelato diciamo il signore che la distruzione di varsavia durante la seconda guerra mondiale fu dovuta all'immenso numero di aborti che purtroppo si praticavano in quella città sì grazie professor roberto de mattei grazie professor giovanni zenone grazie a tutti voi per aver partecipato a questa diretta e io vi ricordo che potete trovare e acquistare il libro dio castiga il mondo la fede di fronte al mistero del male curato dal professor te mattei sul nostro sito www.fedecultura.com potete trovarlo anche comodamente direttamente dal link che trovate qui sotto in descrizione di questo video vi chiedo ancora una volta di acquistare dal nostro sito e non dai grandi sistemi di distribuzione come amazon così potete dare un contributo più significativo al nostro apostolato e vi invito anche alla prossima diretta che si svolgerà tra pochissimi giorni ossia giovedì 16 marzo alle ore 18 con maria bianca graziosi autrice del libro che adesso vi mostro lo trovate subito in un page al sito eccolo qui il libro è mercanti mercanti d'anime libro che uscirà domani ufficialmente in tutte le librerie oltre ovviamente che sul nostro e commerce la vera storia di di un ordine oserei dire glorioso sia l'ordine dei mercedari famoso perché dava in riscatto la propria come riscatto usava le proprie vite per liberare gli schiavi i cristiani schiavizzati dai dall'islam e inoltre vorrei ricordarvi che il libro del professor de mattei è scontato sul nostro sito e questa promozione è attiva fino a domani quindi approfittate andate cliccate sul link acquistate non mancate dunque ai nostri prossimi appuntamenti sia dirette sia i video che pubblichiamo quotidianamente sul canale youtube di fede cultura iscrivetevi al nostro canale telegram continuate a seguirci grazie ancora e buona serata a tutti voi grazie 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 a voi grazie